Allora gente, purtroppo oggi non posso fare live perché mi hanno bloccato la live di prima perché mio marito è apparso un pochino a petto nudo e quindi è andata in violazione quindi quando uno è al mare non può fare un video mentre è al mare perché sei a petto nudo Ok, comunque non mi fa fare la live, mi dice che non posso fare live ora spero di poterle fare domani, non lo so, spero di poterle rifare in live cioè io non sapevo che se uno è a petto nudo va in violazione non si può fare ho girato la telecamera solo per farvelo salutare evidentemente ho sbagliato, ora lo so e non lo faccio più va bene niente gente, speriamo di potersi vedere in live domani ciao a tutti